I radicali proseguono nelle loro visite alle carceri italiane. Oggi hanno fatto tappa a Gorizia, in una struttura che nel sovraffollamento e nella vetustà ha i suoi problemi maggiori. 72 detenuti dove ce ne starebbero al massimo 55, in 3 nelle celle singole, in 6 nelle celle da 4. Servizi a vista e poi carenze anche negli organici delle guardie, una generale inadeguatezza che fa media con quella delle carceri italiane. Alla casa circondariale di Gorizia i radicali con l'euro parlamentare della vedova completano nella nostra regione la visita agli istituti di pena. La struttura è inadeguata ma c'è anche qualcosa da salvare. Quello che io ho potuto riscontrare oggi è una qualità delle relazioni tra i detenuti, tra detenuti e direzione, tra detenuti e agenti buona. 25 proposte di legge radicali di iniziativa popolare, 5 sono sulla giustizia, tra le più urgenti. In 20.000 hanno firmato finora la raccolta anche nelle carceri. In tutte le carceri della regione, questo di Gorizia è l'ultimo carcere in cui andremo a raccogliere le firme, prossima settimana. E c'è un riscontro importante da parte dei detenuti che avvertono la necessità di partecipare a un'iniziativa che può portare ad alcune riforme importanti per tutti. Tra le proposte di legge è anche quella per l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, su cui in serata si è svolto un dibattito a Monfalcone.